Ciao ragazzi eccoci ancora qui con un nuovo video con una sfida foot 18 sfida molto molto facile io ho usato la Francia la Ligon come potete vedere qualche giocatore del Paris Saint Germain giusto per farmi l'intesa ed arrivare ancora più facile e poi qualcuno che l'ho messo giusto così a caso perché ormai ero arrivato già all'intesa e non mi serviva più niente e questo è l'ultimo ragazzi questa è la sfida io vi ringrazio tanto e ci vediamo con un prossimo ciao ciao